Allora, abbiamo parlato di metrica, la metrica è una cosa strana, è una cosa strana e sebbene tutti ne veniamo in contatto con la metrica, persino abbiamo fatto l'esempio di Atlas for Book, che è una canzone apparentemente per bambini, quindi è ovvio che, se leggiamo, si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle, sprint e va, mangia libri di cibernetica, insalata in matematica e gioca su Marte e va. Questa cosa ha una sua struttura e una sua composizione, cioè Luigi Albertelli, che tra l'altro è morto da poco, non l'ha scritta a caso. Ha usato una metrica, una metrica più o meno imperfetta, sono gruppi di sei versi e le leggi metriche non equivalgono a leggi grammaticali, sebbene facciano uso, cioè la parola, si può utilizzare in svariate modalità o funzioni, come diceva uno studioso, Jacobson, la funzione poetica e la funzione informativa sono due cose diverse, sembra un discorso complicato, ma mettiamola così semplice. La mamma mi chiede, vammi a comprare il pane, vammi a comprare un mezzo chilo di pane, questa è una funzione informativa, la mamma pronuncia delle parole, vammi a comprare mezzo chilo di pane e non ha nessuna voglia di, è un'informazione da che io devo ricevere e quindi questo flatus voce, sia che sia scritta che sia parlata, mi serve solo a comunicare un pensiero tra un utente e un ricevente, cioè tra uno che parla e uno che riceve il messaggio e quindi lo mette in atto. La funzione poetica è qualcosa un po' di diverso. Certo, se io ascolto Atrasufo Robo, e cito Atrasufo Robo perché è un esempio semplice, se si trasforma in un razzo missile, Albertelli, che informazioni mi dà? Cioè è un messaggio fatto per darmi delle informazioni sulla cibernetica, sulla costruzione di robot, oppure no? No, non è questo, è una funzione poetica, cioè una funzione poetica è qualcosa che usa il linguaggio di tutti i giorni, ma lo rimpasta in una maniera che è diversa. So che è difficile capirlo, ma certamente tutta la poesia italiana è fatta così. La nostra poesia italiana è fatta diversi e diversi e sillabe, versi e sillabe e accenti. Nasce dalla poesia tardantica latina, se appunto ho fatto l'esempio, Poi non capite cosa sto dicendo, ma capite che c'è una struttura, che queste parole non sono messe a caso, lo stesso vale per Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovavo una selva oscura che la dritta via era smarrita, quanto a dire qual era e cosa dura che sta selva selvaggia e aspreforte che nel pensiero rinnova la paura. Tanta mare che preoccupo più la morte, ma per trattare del ben che vi trovai dirò delle altre cose che vi ho scorto. Sentite che c'è un ritmo, che Dante, cioè si Dante ci comunica un messaggio, lui si è perso in un bosco, che bosco si è perso non si sa, si è trovato un leone, una lunza, la lunza, una lunza, il macellaio, sembra una sorta di leopardo, giaguaro e una lupa. Ma ce lo dice una maniatara ritmica che se io la musicassi nel mezzo del cammino di nostra vita, in fondo non sarebbe difficile, il passaggio per la poesia ramettica non è difficile. Come avviene tutto questo? Nel creare, cioè quando c'è un verso, a un certo punto si va a capo, nel mezzo del cammino di nostra vita e va da capo. Perché va da capo? Perché ho fatto undici sillabe. Quindi nell'endecasillabo vado a casa, vado a capo dopo l'undicesima sillaba, ma non c'è solo l'endecasillabo, ci sono tanti tipi diversi, questo libro scassatissimo di Mario Sant'Agostini, il manuale del poeta, se l'ho rotto, questo è dell'88, credo, però è scritto in maniera abbastanza chiara, può andare per un bambino delle medie, se andava per me, che ero bambino delle medie, tanti anni fa, non ero anni media, non ero già in liceo, comunque. No, lasciamo perdere. Dicevo, si va a capo nella poesia classica, nei versi canonici, perché poi c'è il verso libro che fa un po' come gli pare, e allora lì lasciamo perdere. I versi si distinguono, ovviamente, dal numero di sillabe che si hanno. Ora, il verso, il bisillabo sarebbe due sillabe, si tace, si tace, allora, si tace, no, ternario, il bisillabo non si trova, il verso di bisillabo sarebbe ciao, no, ciao sarebbe no, ciao sarebbe tutto uno, un dittongo. Sei qui, vabbè, capito, è una poesia fatta con un verso ternario di tre sillabe, anche questo, si dice, non getta, si tace, palazzeschi, già il quadrisillabo, gli almi o numeri, un po' difficile, per avere dei versi, insomma, un pochino più strutturati si arriva al scenario, quello sempre, che io ho detto infinite volte, fratelli d'Italia, d'Italia, sedesta, sono sei sillabe, accento sulla quinta, sulla seconda e la quinta sillabe. fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, sono sei sillabe, in tutto, e poi ovviamente c'è il settenario, l'ottonario, il novenario, il decasillabo, l'endecasillabo, eccetera, sono i versi più usati. Come si contano le sillabe? E qui vedo che siamo messi male, nel senso, come si contano le sillabe? Divido in sillabe, sì, però in poesia non funziona come funziona solitamente nella divisione in sillabe classica. se c'è la famosa sinalefe e dialefe, sinalefe e dialefe. Vuole dire sinalefe, l'ho fatto scrivere, ma lo ridico, che quando, cioè, per avere undici sillabe, o per averne sei o sette, posso attuare dei mezzi, degli inganni, degli strumenti, per cui, quando ho fatto l'esempio vado al mare, vada, quando io pronuncio vada al mare, vada al mare, in realtà, se ci fate caso, vada al mare, io non dico neanche vado al mare, dico vada al mare, in realtà, quando la pronuncio, quella ultima o di vado, la elido, mi scompare, vada al mare, quindi, in poesia, si tiene conto del fatto che quando due vocali si incontrano, molto spesso, si pronunciano come se fosse una sola vocale, quindi, se io faccio la divisione in sillabe classica, vado al mare, in poesia è va dal mare, perché, tra la o di vado, e la a di al, non c'è distinzione, quindi, le conto come se fosse una sola sillaba, sinalefe, che era il greco, si unalefe, cioè, ungere insieme, quando due cose si uniscono, la di alefe è esattamente il contrario, quando io, pur potendo avere una sinalefe, decido di non utilizzarla, e di contare le sillabe nella maniera classica e tradizionale della grammatica, vado al mare, allora, qui voglio introdurre una pausa, vado al mare, se metto una pausa forte, un oiato, dovete riprendervi il libro di grammatica, se non ci capite niente, allora, questa è la di alefe, l'ultima legge che abbiamo esaminato è l'accento tonico, sull'ultima sillaba, accento tonico, l'accento, tutte le parole hanno un accento, Allora, come funziona in poesia? Arrivata all'ultimo, all'ultimo accento, dopo del verso, c'è una, si conta sempre una sola sillaba, se l'accento cade sulla decima sillaba, se è una parola piana, tipo cane, le parole piane quando l'accento cade sulla penultima sillaba, cane, gatto, è la penultima, anche perché sono due sillabe, e quindi, di solito, l'accento cade se è una indica sillaba o cade sulla decima sillaba, cane, e c'è una sillaba sola, ma non tutte le parole sono piane, se l'accento cade sulla decima sillaba ed è una parola sdrucciola, tipo missile, tipo le parole che utilizza il nostro buon Albertelli, missile, missile è una sdrucciola, l'accento cade sulla terz'ultima, cioè, la terz'ultima e quindi quel missile, quelle ultime due sillabe, le conto una sola sillaba, perché? Perché è così, perché hanno una forza maggiore, non essendo accentuate, io le conto una sola sillaba, missile, valvole, se l'accento cade cadendo sulla decima sillaba, è una parola tronca, però, ma, va, come la poesia, ne conto comunque un'altra, anche se non c'è nessuna sillaba dopo, ne conto una dopo, sono leggi metriche, le leggi metriche non sono leggi grammaticali, servono solo per costruire i versi, leggiamo cosa dice il buon Sant'Agostini, chiamiamo la sinalefe, la pronuncia contratta di due sillabe in una sola, in una sola, in generale l'ultima vocale di una parola si contrae con la prima e la successiva, quindi ho visto ancora una divisa in sillabe bene, però non ha contato la sinalefe, senza che alla lettura nessuno delle due si perda o cada, la sinalefe vale solo a fini metrici, cioè questa divisione in sillabe si usa solo in poesia, qui c'è Dante Alighieri, lo lume era di sotto della luna, lo lume, lo lume era, dice, la e finale di lume e la e iniziale di era, in teoria sarebbe lo lume era, in realtà io faccio lo lume era, perché tra la e finale di lume e la e iniziale di era, io le conto come se fosse una sola sillaba, questa cosa vale solo in poesia, non da nessun'altra parte. con questo metodo la sinalefe i versi tendono a tornare, opposta la sinalefe è la dialefe, ossia la pronuncia staccata di due sillabe che potrebbero suonare in un posto dove ci potrebbe essere la sinalefe decida di non applicarla, perché se no magari il verso mi risulta troppo corto, per esempio Dante sempre nel paradiso ciò che da essa senza mezzo piove, tra la di da e la e di essa in teoria ci potrebbe essere una sinalefe e in realtà non c'è Dante ciò che da essa perché ci ha messo una pausa. Quindi dovete contare, dovete vedere quando leggete una poesia se potete usare la sinalefe o la dialefe, sinalefe e dialefe per ora questi due tipo dai la cera togli la cera dai la cera sinalefe dialefe sinalefe dialefe in questo modo possiamo contare si trasforma in un razzo missile ci tornano nove sillabe si trasforma in tra la la si trasforma in un razzo missile non sono dieci non sono dieci sillabe ma sono nove perché io l'ultima sillaba non la conto conto dopo la vocale accentata missile ricordiamo le parole la lingua italiana si dividono tendenzialmente in piane parola sulla penultima sillaba sdrucciole parole sulla terz'ultima sillaba tronche parole sulla terz'ultima sì ci sono anche le bisdrucce si arriva alla fine alla quart'ultima queste cose qui sono il repertorio dei poeti cioè i poeti ovviamente utilizzano questo quest'armamentario per fare poesie noi non vi chiediamo alle medie di costruirvi la divina commedia però anche questo breve testo si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle spinte e va mangia libri di cibernetica insalati di matematica allora albertelli ha messo quattro parole sdruccio e infine in fine verso e due tronche sarà un caso no per fare un ritmo si trasforma in un razzo missile con circuiti di mille valvole tra le stelle sprint e va dopo due sdruccio ci metto una tronca perché è un effetto di varianti è come se la musica era la stessa scrivente l'ultima cosa che ho detto mangia libri di cibernetica è una figura retorica ovviamente non è che Goldrake è arrivata a pranzo che mi ha fatto la mamma oggi un libro di cibernetica è ovvio che è una metafora vuole indicare che mangia i libri cioè se lo dico di qualcuno questi libri li divora o penso al monaco Jorg del nome della rosa che proprio si mangia il libro per non farlo leggere all'altro monaco e può anche capitare che non si mangi un libro però in questo caso se lo dico divora i libri è un divoratore di libri vuol dire che li legge spesso quindi è una metafora insalata insalate di matematiche di matematiche anche questa è una figura retorica si chiama Simoro cioè quando mette insieme due parole che in teoria non c'entrano niente tra di loro tipo un aggettivo e un nome ghiaccio bollente lo usa il Petrarca o mi sembra Petrarca e quindi insalate di matematica e ovvio matematica è un astratto l'insalata è un concreto e quindi l'insalata di matematica è uno Simoro chiudo dicendo appunto che questo benedetto e santo uomo Albertelli che ha scritto Goldrich ha usato un linguaggio poeta quindi vi rinvita a ricontare le sillabe però facendo sempre di Goldrich potete anche ascoltarvi la musica così vi ispira ma dovete tener conto della dialefe e sinalefe dialefe sinalefe dai la cera togli la cera sinalefe dialefe dialefe ok un po' se sono stato chiaro quindi quando avete dei dubbi e mi raccomando guardate il libro di grammatica piane sdrucciole e trovi perché se no non ci capite niente e se no dice la sdrucciola che è questa sdrucciola sdrucciola no a che serve tutta sta roba serve a capire la poesia a che serve capire la poesia a vivere meglio quando io capisco una poesia ne provo un piacere maggiore che è come la musica io l'ascolto una musica però se io sono musicista capisco però qui ci ha messo una base così e poi ci ha messo l'accompagnamento di arti io faccio finta di dire questa cosa al caso però uno capisce meglio e quando uno capisce meglio una cosa l'apprezza di più per questo noi siamo qui per non solo per darvi informazioni che potreste ritrovare su qualsiasi mezzo di informazione ma anche per sviluppare il vostro gusto estetico sembra una parola grossa ma sviluppare il vostro gusto estetico significa che ascoltando una cosa voi dite è bella e brutta per capire se una cosa è bella e brutta dovete capire come è stata fatta se non capite come una cosa è stata fatta non potete dirne niente su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere diceva un filosofo austriaco che si chiama Wittgenstein con Wittgenstein si può chiudere qui e quindi chiudiamo con Wittgenstein dopo aver citato Wittgenstein che vogliamo di studiate anche un po' di grammatica e un po' di poetica grazie a tutti